Ritorno alla vita con vista sul 2 giugno dopo la stagione del covid che ha azzerato tutti gli eventi a cominciare dal carnevale di Campo Marzo oggi si riparte proprio dal parco della città che sarà l'epicentro del mercatino dell'antiquariato Questa edizione straordinaria del mercatino dell'antiquariato diventa l'opportunità per ricordare che Campo Marzo uno dei luoghi più belli della nostra città non appartiene a nessun altro se non ai vicentini Così le difficoltà vissute in questi mesi diventano opportunità Si riparte da Campo Marzo che verrà vestito dell'eleganza di uno dei primi mercati dell'antiquariato che si possono svolgere in Veneto Ovviamente l'evento si terrà nella massima sicurezza con un servizio di sorveglianza Una decisione che abbiamo preso in sinergia con gli organizzatori di quello che è uno dei momenti più amati del nostro calendario di eventi L'abbiamo presa per assicurare la totale sicurezza sia per gli espositori che per gli avventori e anche per garantire e consentire ai pubblici esercizi di mantenere durante il 2 giugno il posizionamento dei propri plateattici